La situazione meteorologica sulla regione è caratterizzata ad un afflusso nei prossimi giorni, in particolare nel fine settimana, di correnti umide e instabili da sud, veicolate da una depressione che entrerà nel Mediterraneo proprio nelle prossime ore. Per sabato prevediamo cielo in prevalenza coperto sulla regione, salvo qualche schiarita locale, specie su Triestino e Tarvisiano. Saranno possibili delle precipitazioni deboli e sporadiche al mattino, più diffuse, frequenti e abbondanti dal pomeriggio, anche temporalesche e più intense localmente, specie sulle prealpi, sulle zone occidentali. Su pienore costa soffrirà vento debole e moderato da est o nord-est. Per quanto riguarda lo zero termico sarà su 2.500 metri, quindi eventuali precipitazioni saranno a carattere piovoso su praticamente tutte le nostre zone montane. Le temperature sono in lieve diminuzione nei valori massimi, in aumento in quelli minimi. La giornata di domenica vedrà maggiore variabilità, con nuvolosità variabile, rovesci temporali sparsi sia al mattino che nel pomeriggio, intervallati da fasi più o meno lunghe, anche con qualche timida schiarita. Per quanto concerne il vento, sarà debole o moderato da sud sulla costa e le temperature saranno ancora sostanzialmente stazionarie. Tempo instabile anche i primi giorni della prossima settimana, ancora con rovesci temporali sparsi alternati a fasi di pausa con qualche schiarita. Temperature rimangono ancora sostanzialmente stazionari. E dall'osservatorio metodo dell'ARPA, Arturo Pucillo vi saluta.